Grazie Paolo, una brevissima introduzione concettuale, poi una rapidissima disamina di che cosa fa il Centro per la Produttività Veneto e di che cosa fa il Demotec, legando naturalmente, possibilmente tutto questo, spero, al tema del nostro incontro di stamattina. Credo che una riflessione in questa fase, in questa fase di una particolare congiuntura economica vada fatta sul concetto che riguarda la sostenibilità. Una sostenibilità che va vista, credo non soltanto dal punto di vista ambientale, certamente anche dal punto di vista ambientale, ma il concetto di sostenibilità va sicuramente allargato e va visto per esempio anche dal punto di vista economico naturalmente e va visto anche dal punto di vista dello sviluppo delle risorse umane. E naturalmente una particolare attenzione all'ambiente, alle risorse umane, al fatto economico porta a sì che tutto questo sia legato alla qualità, all'innovazione, alla formazione, all'istruzione. Quindi io credo che ci siano necessariamente, come dire, dei paradigmi che abbiamo utilizzato nell'arco degli ultimi decenni che hanno, in qualche misura, riconsiderati, modificati o a volte decisamente infranti. Per esempio l'aspetto temporale. Noi abbiamo costruito, diciamo, una realtà che si basava nel concetto di breve termine. Cioè abbiamo considerato sempre le cose in un lasso di tempo molto stretto. Questa è stata una demenza, prima di tutto di tipo economico. Cosa ci costa l'inquinamento? Cosa ci costa il disastro del territorio? Cosa ci costa, come dire, aver sempre pensato soltanto al giorno dopo? Cosa ci costa un chilometro di autostrada oggi? Per fare la nostra pedemontana, quali sono i costi? I costi pazzeschi. Quindi io credo che in questo momento in cui le risorse chiaramente sono scarse bisogna fare un appello, direi, all'intelligenza del buon padre di famiglia. Un concetto forse certamente non rivoluzionario ma che credo veramente possa essere l'unico che può sostenere, diciamo, l'attuale fase, l'attuale congiuntura. Noi abbiamo un'enorme ricchezza nel nostro territorio e la ricchezza delle filiere. Noi non lo sappiamo ma in giro per il mondo, voglio dire, il nostro territorio, il Vicentino, il Veneto viene considerato e ammirato diciamo per il fatto che ci sono delle filiere. cioè non è che prendiamo qualsiasi dei nostri settori prendiamo la metalmeccanica che, diciamo, in senso lato è quella più robusta di presenza nel nostro territorio e anche nel lato igentino. Non esistono soltanto grandi aziende del settore metalmeccanico né esistono di medie né esistono di piccole. ci sono delle catene naturalmente di subfornitura ma ci sono anche delle scuole che preparano delle ottime persone certo potremmo metterci adesso a parlare che bisogna migliorare il rapporto scuola-impresa il rapporto università-impresa siamo perfettamente d'accordo però la filiera, diciamo, la filiera c'è già abbiamo catene di subforniture lunghe nei confronti dell'automotive tedesco e così via ne abbiamo di corte cioè abbiamo tutti gli ingredienti, ce li abbiamo l'operosità, la cultura il mondo della scuola poi noi naturalmente minimizziamo ma voi sapete che l'analisi internazionale sul livello di qualità dell'apprendimento dei giovani vede il Veneto e vincezza ai vertici europei poco importa che poi magari l'Italia scivoli all'ottavo e al nono posto adesso consideriamo come dire, consideriamo quella che è la nostra realtà allora questa ricchezza enorme, voglio dire, delle filiere coniugata cioè quindi che vanno difese, valorizzate incrementate ottimizzate e in diversa concezione del tempo dal punto di vista anche proprio economico ecco, io credo che questi siano due fattori più un'altra cosa che è quella sempre dell'intelligenza del buon padre di famiglia la semplicità il nostro paese ha bisogno di semplicità faccio semplicemente due esempi che credo transciano se so che gli invalidi sul lavoro sono l'1,5% perché questo è il mio dato consolidato se erogo pensioni per il 3% vuol dire semplicemente che sto erogando ad un sacco di persone che non ne hanno diritto io sono per lo stato sociale quindi è giusto che gli invalidi abbiano una pensione perché siano invalidi se una regione a parità di territorio ce ne sono che hanno 3.500 dipendenti e 30.000 dipendenti il fatto non è un taglio trasversale levo via risorse a tutti no le tolgo voglio dire a chi ne sta prendendo troppo quindi voglio dire io credo che il buon senso sia necessariamente la base del nostro agire se no non andiamo da nessuna parte tutto ciò premesso il modello di azione dunque centro produttività vento è un'emanazione della camera di commercio di Vicenza è nato nel 1952 con il piano Marshall alla fine della guerra gli americani hanno mandato in giro per il territorio dei tecnici che avevano un obiettivo uno scopo quello di far ripartire diciamo la realtà economica e lo hanno fatto anche a Vicenza già individuando nel territorio vicentino attraverso uno studio che era stato fatto dal club di loro economisti un territorio che avrebbe avuto delle grandi potenzialità di crescita così come poi naturalmente è avvenuto questi tecnici mi fermo su questo per dire che centro produttività dal 1952 applica questo modello cioè non lo ha cambiato diciamo lo ha aggiornato certo però il modello è sempre stato questo che adesso vi vado ad illustrare allora questi tecnici andavano nelle aziende naturalmente miglioravano la produttività delle aziende attraverso nuove tecniche soprattutto di organizzazione della produzione di marketing il patto era vi faccio questo gratuitamente voi aprite i cancelli quindi se ci sono altre aziende che vogliono venire a vedere che cosa fate voi dovete aprire i cancelli e mostrarlo non naturalmente regalare gli altri vostri segreti ma mostrare come avete innovato come avete modificato la vostra organizzazione e la vostra organizzazione della produzione tutto questo è stato fatto in 10 aziende dimostrative e poi questo numero di aziende è cresciuto quindi il centro per la produttività si è trovato con un patrimonio di aziende che aveva fatto determinati esperimenti al loro interno di decisa e sicura innovazione sono nati dei gruppi di studio li vedete qui nello sfondo di questo modellino che rappresenta l'attività sull'innovazione di CPV questi gruppi di studio sono composti da persone qualche volta dai titolari altri dai manager o dai tecnici sono 12 si occupano di cose anche molto specifiche automazione conversione dell'energia oppure tecnologie fuggiori tecnologie meccaniche organizzazione della produzione e così via naturalmente questo mondo che è un mondo come dire dentro il quale c'è anche l'università perché ogni gruppo di studio ogni consiglio direttivo diciamo del gruppo di studio ha dentro almeno un professore universitario questo è stata una cosa che ci ha suggerito a suo tempo il professor Pagliarani che è stato il fondatore in Italia di ingegneria gestionale che era nato proprio come tecnico al centro per la produttività prima di fare la carriera accademica quindi praticamente questi gruppi di studio che sono composti nel mondo dell'impresa irrobustito dal mondo diciamo delle università per favorire uno scambio sviluppa una propria attività informativa quindi si riuniscono affrontano i temi che credono vanno a vendere aziende vanno in giro per il mondo a vedere realtà oppure vanno a vedere fabbriche o cose di questo genere nello stesso tempo però in quell'ambito nascono quelli che sono i temi da affrontare per il centro per la produttività dal punto di vista della formazione dal punto di vista dell'innovazione e per certi versi anche dal punto di vista della creazione di nuove imprese perché il centro produttività si occupa anche di questo allora questo è il nostro mondo quindi un mondo che ha un'umile operazione di ascolto da parte dell'impresa CPV non pensa di andare ad insegnare qualcosa all'impresa CPV raccoglie quelle che sono le richieste di innovazione e cerca di fare un ponte tra questo e il mondo delle università e della ricerca e naturalmente anche il mondo dell'università e della ricerca ha qualcosa che come dire qualcosa da dire alle aziende se si apre questo canale di comunicazione si possono costruire dei progetti comuni e naturalmente questi progetti comuni possono portare a dei risultati buoni in questi giorni abbiamo avuto il professor Icovenco del MIT che il professor Icovenco porta una metodica che si chiama TRIZ che ha a che fare con l'innovazione dei prodotti e ha a che fare anche con il mondo dei brevetti che è una delle vocazioni di centro per la produttività che è uno dei punti di eccellenza europeo nell'erogazione dell'informazione brevettuale è stata una settimana esaltante siamo andati in giro per aziende anche per aziende dell'alto vicentino e abbiamo veramente visto delle cose estremamente interessanti perché è vero che siamo in un momento di grande difficoltà e di grave crisi ma è anche altrettanto vero che ci sono tante aziende che sono ancora sul pezzo che hanno voglia di innovare che vogliono in qualche modo andare avanti e credo che siano soprattutto queste le aziende diciamo che che noi potremmo che noi potremmo sostenere e aiutare denotech è un gioiellino che è nato da una volontà che accumulava il comune di Schio da una parte la camera di commercio di Vicenza dall'altra nell'idea di costruire un piccolo laboratorio di innovazione di trasferimento tecnologico nell'area di Schio a beneficio di tutto l'alto vicentino è nato così CPV gioca diciamo un ruolo operativo in questo in questo Demotech e è molto importante considerare che a parte la volontà di camera di commercio comune di Schio e l'operatività di centro produttività Veneto nel Demotech diciamo sono presenti le associazioni di categoria del secondario quindi industriali l'API l'associazione artigiani la CNA e quindi si riesce a sviluppare un'attività diciamo che ha un'interfaccia molto molto importante nei confronti del territorio e praticamente il comune di Schio ha questo gioiello che è l'ex lanificio conte e quindi il Demotech ha una sua sede diciamo dentro il lanificio conte e questa è un'immagine diciamo dell'inaugurazione che è avvenuta il 24 gennaio del 2018 qual è la vocazione diciamo del Demotech ecco vi dico due cose di centro produttività giusto per inquadrare con i numeri le cose centro produttività è una fondazione che è composta da due socio principale che è la camera del socio nelle fondazioni non si dovrebbe parlare di soci ma comunque diciamo il fondatore più importante è la camera di commercio di Vicenza poi ci sono quattro altre camere di commercio perché il CPV fa un'attività regionale c'è l'associazione industriali l'API le municipalizzate di Vicenza il comune di Bassano del Grappa e questi sono i fondatori poi abbiamo un altro fondatore molto importante che è l'amministrazione provinciale di Vicenza e poi abbiamo dei sostenitori che sono le altre associazioni di categoria e anche altri enti pubblici come il comune di Vicenza e così via l'attività che sviluppiamo le sviluppiamo su cinque filiere praticamente e queste cinque filiere sono la formazione e qui abbiamo formazione per i giovani e formazione per quelli che lavorano in azienda un secondo segmento di attività sono le politiche attive del lavoro quindi facciamo delle attività di orientamento di formazione di reinserimento lavorativo di persone che sono in difficoltà o in disagio sociale un terzo progetto un terzo segmento della nostra attività è quello che riguarda l'innovazione e qui sull'innovazione diciamo vi parlavo prima di quello che è un po' il nostro approccio come avete visto quindi noi cerchiamo di fare open innovation quindi innovazione sistemica per cui cerchiamo di mettere insieme dei pezzi diversi diciamo di questa innovazione e cerchiamo di farla naturalmente sempre molto sul fronte delle aziende noi non facciamo l'in per esempio l'in è il centro l'in è quello del cuo o le associazioni di categoria noi facciamo kaisem cioè facciamo palestre cioè facciamo il kaisem in un'azienda con altre aziende ovviamente l'azienda che ospita non paga non paga niente è tutto gratis ovvio mette a disposizione diciamo le sue linee il suo capannone e così via ecco quindi attraverso questo è un po' il nostro approccio abbiamo delle competenze sui brevetti sui materiali innovativi e proprio ad Emotech diciamo il focus della nostra attività è oltre che sui brevetti sui materiali innovativi e sul design come si può lavorare sui materiali innovativi in un piccolo centro per il trasferimento tecnologico utilizzando delle reti chiaramente per cui voglio dire a Demotech quindi a Schio ci sono dei collegamenti dentro il Demotech che valgono sia a livello nazionale sia a livello internazionale quindi voglio dire a livello nazionale con il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova dove c'è l'Università di Padova e che ha una sua particolare competenza anche a livello nazionale diciamo sul tema dei nuovi materiali ma anche con l'Università di Trento che ha una splendida facoltà di ingegneria di materiali soprattutto per quanto riguarda alcuni settori e alcuni segmenti quindi attraverso anche piccole strutture cioè penso voglio dire anche a questa struttura cioè oggi le tecnologie ci permettono comunque se siamo in grado di costruire delle reti siamo anche in grado di far comunicare queste reti e quindi anche se noi siamo voglio dire nel territorio e dentro piccole strutture noi possiamo avere grandi collegamenti nazionali e grandi collegamenti internazionali e io credo una cosa che noi possiamo fare attraverso soprattutto come dire una mentalità che dobbiamo sempre più acquisire quindi Demotech ha molte possibilità di sviluppo da quella che è una valutazione diciamo che possiamo fare proprio perché ha la possibilità di essere al centro di una serie di relazioni e naturalmente la bontà di queste relazioni può portare ad un ulteriore sviluppo sul piano dei materiali sul piano dei brevetti e così via chiudo dicendo che un ulteriore aspetto che va considerato e su cui il CPV è anche molto attivo e quello da un lato diciamo della creazione di imprese dall'altro lato di attività che hanno a che fare con la responsabilità sociale ormai non si dice più dell'impresa si dice delle organizzazioni perché ci sono alcune novità alcune linee guida internazionali che sono intervenute proprio nel 2011 che cosa significa avere una particolare attenzione alla responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni noi pensiamo che l'impresa innovativa sia un'impresa etica quindi che lavora sul concetto di sostenibilità che lavora sul concetto di integrazione territoriale noi pensiamo che questo sia un processo che debba nascere anche a livello delle piccole e medie imprese che molto spesso assumono anche la certificazione etica perché il grande comittente lo dice ieri all'associazione artigiani c'è stato un magnifico convegno che riguardava il settore della moda lì c'era l'amministratore delegato della all che possiede il gruppo Gucci è una roba da 15 miliardi di euro di fatturato giusto per capire di cosa stiamo parlando il quale ha detto i nostri fornitori nel giro di tre anni dovranno prendersi tutti la certificazione etica punto e basta cioè se vogliono lavorare con noi devono fare così adesso questo è un versante invece il versante ci viene un reggino a farlo no sì no ma certo certo su questo su questo scusate non è così credetemi l'approccio può essere completamente opposto io metto insieme questo è un modello di CPV che fa io metto insieme piccole e medie imprese che sono interessante perché nella loro strategia di avere un diciamo un approccio etico alle cose e naturalmente vanno a prendersi la certificazione prima che glielo dica il committente queste sono le imprese diciamo autenticamente innovative queste sono le imprese che vanno aiutate capite perché in effetti uno snodo etico questo a livello del come dire dell'economia mondiale ma anche a livello dell'economia locale individuale è assolutamente necessario perché il modello opposto che è quello attuale ha mostrato come dire che ci porta al fallimento quindi io propugno un'etica che non si basa su un principio ideologico religioso ma su un principio laico che è quello della sopravvivenza del nostro territorio e delle nostre aziende perché se non c'è poi questo come dire questo snodo che significa come dire comportamenti attenti comportamenti legati alla sostenibilità comportamenti di attenzione i lavoratori al territorio e così via all'ambiente noi non andremo diciamo da nessuna parte è bene che lo sappiamo ed è anche giusto che si cominci a dire con molta tranquillità qualcuno di voi avrà visto la scorsa settimana c'è stata una magnifica trasmissione in un canale televisivo nazionale in cui hanno mostrato come funzionano le borse mondiali e un economista diceva noi ci facciamo tante idee che sono tutte sbagliate cioè provate a pensare che cosa vuol dire praticamente una macchina un elaboratore in rete in tempo reale e noi siamo persone normali diceva questo economista la gran parte delle persone sono normali lavorano non sono lì mica che pensano se il loro titolo va su o va giù invece ci sono quelli che ci pensano e che agiscono e nessuno è in grado com'è che possiamo dire di contrastare questo processo se non certo ma se non attraverso una crescita una crescita di tipo etico che poi è nel nostro DNA veneto e attenzione cioè voglio dire non è che la responsabilità sociale di impresa l'hanno inventata l'angelo sassone credo che voglio dire qualche cosa di buono si sia fatto veramente qualche decennio fa quindi questo è quello che posso dire grazie Antonio ci hai raggiunto una pipoppa robusta ma anche l'ultima parola ma su questo tema ho deciso di grazie a tutti